Lunedì di intenso lavoro per i ragazzi di Mister Montella che anche oggi hanno svolto una doppia seduta al centro sportivo Venatti di Moena dedicando la mattinata al potenziamento in palestra e dal lavoro di possesso con navette e conclusioni in porta per poi incentrare la seduta del pomeriggio alle soluzioni su palla inattiva con spazio anche a partitelle a tema a campo ridotto. Presente al campo ad assistere all'intera seduta anche il presidente Mario Cognini giunto in ritiro proprio ieri. Domani la squadra tornerà in campo, mercoledì invece alle 17.30 in programma l'amichevole contro la Cremonese, partita che sarà trasmessa in diretta su Viola Channel. Sosteremo il volo! Una tescata di bassi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova. Dentro una macchina suona una ritmica forte e si sente da fuori, un temporale elettronico lavava la polvere dai cuori, DJ suona, musica buona, BPM 130. Respira, respiro, ti porto via con me! In questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole, in questo spazio elettronico, posso toccare il cielo, ti porto via con me, in questa notte fantastica, ti porto via con me, ribalteremo il volo! Una tescata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino, donna che danza la notte fa nascere il sole, ti sento vicino!